ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale traduzione canzoni musica spiegata e bentrovati a coloro che guardano il video per la prima volta in questa puntata andiamo a parlare di una canzone che sta avendo molto successo ultimamente una canzone che è un mix tra il sacro e profano una canzone diciamo che possiamo definire la navi di mezzo tra il gospel l'elettronica e l'house questa canzone che è prima in tutte le piattaforme di streaming youtube d'italia che non è uscita ultimamente ma è uscita il 23 giugno del 2023 quindi è qualche mese ma è uscita ultimamente sta avendo questo successo e questa canzone si intitola mercy di the blessed madonna con il featuring del cantante jacob lusk quindi come abbiamo detto la canzone la possiamo divenire un mix tra sacro e profano perché diciamo che nel testo ci sono anche riferimenti alla regione regione che comunque non è nei nei pensieri di the blessed madonna che a suo tempo era chiamata the black madonna a causa del caso comunque per la devozione dei propri genitori avevano nei confronti della madonna e quindi iniziato con il nome di the black the black madonna perché lei comunque è stata sempre una una dj che che era aperta all'integrazione era aperta alla trasgressione era aperta al comunque condividere le cose e anche perché lei essendo stata bullizzata da ragazza diciamo che è una persona che non è non si non è conformista è anticonformista va contro la massa e quindi per questo ci piace diciamo che anche e diciamo anche progettato anche assistito a o comunque anche cantato in dei 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 rave illegali e quindi si va appunto abbastanza vicino all'illegale però a noi ci piace perché questi queste persone che hanno questa personalità che vanno contro tutti e tutti ci casano tantissimo e in questa canzone che appunto abbiamo detto potrebbe essere anche messa come gos potrebbe essere catalogata come gospel è una canzone molto particolare che intreccia diversi stili e quindi come abbiamo detto la canzone è uscita il 23 giugno del 2023 e dal disco del momento in una intervista the best madonna ha detto che l'è interessata alla dicotomia cioè alla allo scindere al tra il sacro e profano nel songwriting estasi e agonia infatti lei è anche stata ispirata a questa canzone dall'essa di tanta teresa quindi un mix tra il carna tra il carnale e il sacro una canzone che parla di amore e di un cuore infranto e può anche essere un brano spiritualmente profondo l'amore e misericordia love is a mercy e durante il processo lavorativo che ha portato alla realizzazione nel brano con jacob blues che gli altri l'italia del brano è andata ad appoggiare le propradici esattamente in quel dolce spazio che ha cavato tra la chiesa ed il dance floor che sta cercando che stavo cercando infine questa è la mia idea di dio ossia quei momenti in cui siamo resi umili da un amore così grande che non sappiamo se essere degni o addirittura degni dell'accettazione e misericordia e misericordia che sentiamo nei nostri confronti the best madonna che sin dall'inizio era una gospel ma ha avuto diversi passaggi il suo percorso è iniziato 5 anni fa e ha preso forma in diversi luoghi la prima cosa che pensai dice è che avrei voluto provare a scrivere una canzone ispirandomi proprio ai dischi che ho amato che parlavano di dio e dell'amore io ho pensato a mettere giù qualcosa che unisse entrambi i temi e quindi come abbiamo detto è comunque una canzone d'amore perché chiede perdono per le cose che ha fatto e implora in ginocchio addirittura di tornare insieme questa persona e quindi possiamo adesso analizzare il testo che appunto si intitola mercy quindi inizio dicendo quindi abbi pietà now that I am begging on my knees ora io sto implorando to beg vuol dire chiedere le nemosi da implorare quindi io sto implorando in ginocchio I can finally see the things and how they used to be io finalmente posso vedere le cose e come erano di solito essere forever come my way is the choice that I made quindi per sempre tu vieni sulla mia strada comunque mi vieni incontro e sono le cose sono le scelte che io ho fatto cioè le conseguenze delle mie azioni sono le scelte che io ho fatto I was surely thinking about me stavo sicuramente pensando a me stesso quindi si parla di egoismo I lost the path, I lost the life with him quindi ho perso the path è il sentiero, la via fit è l'impresa, la prudezza quindi ho perso il sentiero, la via ho perso la vita che avevo ho perso la vita con lui forgot the feet of fire for the same day quindi ho dimenticato quell'impresa di fuoco per lo stesso giorno so don't watch mistakes I made quindi non guardare non guardo gli errori che io che ho fatto was a friendship that I trade quindi to trade vuol dire commerciare commerciare quindi commercio e quindi era un'amicizia friendship, amicizia che io ho scambiato forse commerciare è più giusto come termine quindi che ho trattato che come posso dire è un'amicizia che ho barattato non lo so una roba del genere mi viene in mente quindi non ho capito bene l'amore now I'm begging for forgiveness quindi ora io sto chiedendo sto implorando per per la per il perdono forgiveness è il perdono begging to be saved quindi implorando per essere per di essere salvato show me mercy with your love mostrami l'amore mostrami la scusa la la misericordia la pietà con il tuo amore I messed up and I missed your touch allora mess up vuol dire disordine quindi ho fatto un casino si può dire e e mi manca il tuo tocco show me mercy quindi mostrami la la pietà I must have mercy on me abbi pietà di me now you got me begging on my knees ora tu mi fai implorare in ginocchio addirittura lonely nights without you makes it harder for me to breathe le notti solitarie senza di te mi rendono il respiro più difficile mi rendono più difficile respirare le notti senza di te I think I'm missing you so much quindi io penso che io che mi stai mancando così tanto I'm not strong enough add enough non sono abbastanza forte ne ho avuto ne ho avuto abbastanza di tutto ciò quindi baby please come back I'm feeling bad quindi tesoro per favore torna indietro io mi sento male quindi è un'implorazione a nonostante gli errori a perdonare e a cercare di tornare insieme nonostante le difficoltà addirittura chiedendolo in ginocchio quindi begging to beg vuol dire implorare ricordiamocelo questa è la parola chiave della canzone come merci che vuol dire misericordia quindi questa è stata veramente carino fare la traduzione perché appunto ci sono delle parole molto interessanti quindi è facile il testo è chiaro non è difficile si possono imparare qualche parola in più in inglese e imparare appunto che ho cercato di fare qualche retroscena sui cantanti e su diciamo appunto il backstage della nascita di queste di queste canzoni che stanno facendo appunto la cronaca comunque la storia di questo del nostro periodo adesso del nostro periodo storico musicale che stiamo vivendo e quindi niente vi invito ad ascoltare la canzone in modo che si possa imparare anche una parola in più in inglese in questo caso e quindi vi invito a scrivere vi invito a mettere un mi piace se avete più piaciuto il video e di iscrivervi al canale traduzione e canzoni in musica spiegata per continuare insieme questo percorso di traduzione e musica in inglese ma anche altre lingue canzoni italiane capire il significato e di retroscena che hanno scritto hanno spinto questi grandi artisti a scrivere questi grandi questi grandi capolavori quindi con merci quindi pietà di The Blessed Madonna featuring Jakob Lusk per il momento è tutto alla prossima ciao